Ciao, nel video di oggi dovremo vedere il passaggio dall'orientino in scolastico, l'orientino in sportivo federale agonistico. Guarderemo assieme diversi percorsi nelle categorie dai 12 ai 18 anni, sia di gare cittadine urbane che hanno caratteristiche abbastanza simili a quelle scolastiche che avete fatto finora e, nelle stesse età, anche di gare di bosco. In questo caso ci saranno caratteristiche diverse che andremo ad analizzare per capire come può funzionare una transizione tra un'attività scolastica e un'attività federale. Sicuramente necessita di alcuni allenamenti specifici per essere pronti, ma andiamo per gradi. Andiamo dunque ad analizzare alcuni dei percorsi dalle categorie under 12, che sono le prime a livello agonistico federale, all'under 18. Le categorie a livello federale sono divise ogni due anni, 12, 14, 16 e 18, e sono quelle che vanno ad abbracciare le principali categorie scolastiche. A livello regionale queste categorie possono anche essere accorpate, però le caratteristiche tecniche che andremo a vedere oggi sono molto simili a quelle che vi illustrerò. Guarderemo delle gare cittadine sprint in ambiente urbano, che sono chiaramente le più simili a quelle come tecnica dell'ambito scolastico, ma anche delle gare federali nel bosco, in cui andremo a analizzare proprio le caratteristiche tecniche principalmente diverse. Partiamo da un percorso dell'under 12. È la prima categoria agonistica, come abbiamo detto. Di solito ci sono tanti punti di controllo, anche abbastanza ravvicinati, quindi è un approccio molto semplice orientistico, non ha grosse difficoltà e può essere adatto a tutti, anche a chi ha poca esperienza. È la prima categoria che si può fare da soli, invece nell'under 10 si può anche essere accompagnati o comunque seguiti e tendenzialmente non ha necessità di avere un'esperienza orientistica molto alta. Quindi potete provarla assolutamente. Stesso discorso vale per l'under 14. La gara che andiamo ad analizzare in questo istante è una gara nazionale sprint, una di Coppa Italia, quindi è una delle massime espressioni federali per l'orienteering. Quello che cambia nell'under 14 è che iniziano alcune scelte di percorso un po' più lunghe. Vedete ad esempio a destra il punto numero 13. È sempre un orientamento abbastanza semplice, però si può fare la scelta a sinistra, le scalette, poi la stradina che porta in avvicinamento al punto 13, o la scelta tutta larga sulla destra lungo questo viale alberato per prendere poi queste scalette e arrivare al punto 13, o anche una scelta più corta, intermedia e più articolata e quindi cominciano le prime scelte di percorso nell'under 14. Questo ad esempio, il percorso dell'under 14 è raccorpato anche all'under 16, proprio perché le caratteristiche delle gare sprint è che sono gare in cui la distanza è molto simile tra i dodicenni e i ventenni, perché quello che serve è un tempo del vincitore che si aggiri dai 12 ai 15 minuti. Quindi sono gare brevi e tecnicamente quello che andrà a cambiare, e andiamo ad analizzarlo ora in un percorso under 18 e under 20, è la lunghezza di alcune tratte, quanto sono articolate, che vuol dire che ci sono punti in cui la lettura della mappa è più difficile, però sempre in un ambiente o di parco o di centro cittadino in cui la cartografia è più semplice, più intuitiva. Ho scelto per voi un paio di punti per far capire proprio la differenza. Questa è una tratta lunga, quindi dal punto 7 al punto 8, ci sono diverse scelte di percorso, si può andare tutto a sinistra, quindi salire il pendio lungo la strada, poi scendere per l'altra strada asfaltata, oppure anche in questo caso si può fare una scelta intermedia e fare una specie di S lungo il nostro tragitto, oppure a destra la più larga, la più lunga, ma chissà che non sia la più veloce. Quindi quello che cambia è proprio la lunghezza di alcune tratte e la difficoltà, vi ho scelto questo punto, che è sì corto ma molto articolato, quindi necessita di un orientamento più importante, quindi saper leggere e orientarsi tra dei passaggini, nei recinti, portici, scalette e può capitare di avere delle piccole indecisioni, quindi ci si fermerà, si controllerà la mappa e quindi questa è la difficoltà che potrete trovare in una gara federale. Tendenzialmente nelle gare scolastiche i percorsi sono un po' più semplici, ma non è nulla che non sappiate fare, quindi l'approccio sicuramente per le gare cittadine è il primo, quello più semplice per iniziare a fare gare vere. Passiamo invece alle gare di bosco. A parità di età sicuramente l'ambiente naturale cambia tantissimo, sono gare forest, cambia la cartografia, vedete che ci sono tanti più simboli e soprattutto cambia che a livello scolastico di solito si usano scale di riduzione che vanno dal 4000 al 5000, invece nel bosco si passa al 7500 o al 10000. Per alcune categorie giovanili si usa anche il 15000 nelle gare a lunga distanza. Quello che cambia principalmente quindi sono i simboli, ci saranno alcuni simboli che magari a livello scolastico non avete mai visto, però nulla di così difficile. Con un po' di esperienza e con il giusto approccio, soprattutto le primissime gare nelle categorie under 12 sono sempre lungo le linee di conduzione, sentieri, prati, precinti. Quindi può essere la gara nel posto più difficile come bosco ma il percorso è sempre tracciato in modo adatto, quindi non è perché si va a fare una gara nazionale nel bosco che il tracciato è impossibile, anzi deve essere fatto adatto all'età. Quindi anche se avete solo un'esperienza scolastica potete tranquillamente approcciare e provare delle gare federali anche nazionali come in questo caso sempre una prova di Coppa Italia. Anche in questo caso chiaramente salendo di categoria andiamo a vedere ora un under 14, le linee di conduzione rimangono sempre come filo conduttore però a qualche punto si va a discostare dai sentieri, dagli avvallamenti e ci può essere un primo approccio di qualche punto leggermente nel bosco un po' più complicato. Però nelle vicinanze in un tracciato dell'under 14 ci sono sempre dei punti di riferimento chiari. I tracciatori sanno che devono fare i percorsi con queste caratteristiche quindi anche in questo caso anche con poca esperienza potete tranquillamente provare questi percorsi. Salendo di categoria poi passiamo all'under 16. Vedete come si allungano i percorsi, si allungano le tratte, i punti di controllo e sempre più i punti possono essere al di fuori delle linee di conduzione principali che sono come avevamo visto prima i sentieri, i fiumi, elementi chiari che possiamo seguire. Quindi sempre più diventa importante una lettura cartografica dei vari dettagli, della morfologia, l'uso della bussola e quindi già per approcciare una categoria dell'under 16 è opportuno fare qualche allenamento prima però con un minimo di esperienze soprattutto uno studio della simbologia potete tranquillamente provare. Salendo ancora di una categoria nell'under 18 a maggior ragione iniziano i problemi tecnici. Diventa sempre più avventuroso anche quindi sempre più accattivante provarlo. Vedete come ci sono tratte più lunghe, le scelte di percorso diventano significative e ci possono essere dei tratti come quello che vi ho scelto 8, 9, 10, 11 in cui è tutto bosco. È ancora più bello mettersi alla prova in tratte di questo tipo, serve molta esperienza, sapere navigare senza poter seguire dei veri e propri sentieri o linee di conduzione molto molto chiare però anche in questo caso con degli allenamenti specifici, con delle prove, con una gradualità di approccio potete tranquillamente cimentarvi in queste gare. Sicuramente tratte di questo tipo necessitano una certa esperienza, difficilmente alla prima esperienza che andate a fare in una gara di bosco saprete fare un percorso di questo tipo. Proprio per questo il consiglio è iniziare con un'iscrizione nelle categorie adatte alle vostre prime esperienze. Ci sono delle categorie che si chiamano esordienti o ci sono i percorsi a colori, bianco, giallo, rosso, dipende dalla gara che andate a fare. Magari chiedete agli organizzatori o alla società del territorio un consiglio e provate perché le gare sono molto ma molto divertenti. È importante poi fare una progressione di esercizi e di allenamenti adatti anche per questi nel sito www.fiso.it potete trovare un elenco di società, di comitati, di allenamenti e gare per poter iniziare. E soprattutto buon divertimento. Se avete fatto qualche gara scolastica sicuramente sarà ancora più accattivante provare qualche gara federale. Spero che queste indicazioni vi siano state utili per potervi cimentare nelle gare federali e vi aspettiamo sui campi di gara. Ciao a tutti!